Mi chiamo Simone Ciotti, lavoro per Lazio Crea, che è una società in house di Regione Lazio e ci occupiamo di tutto ciò che è IT di Regione Lazio, come la sicurezza e la gestione dei dati. Le sfide che abbiamo affrontato per la sicurezza sono dovute principalmente ai cambiamenti che nel corso del tempo il governo centrale ci ha portato e quindi siamo stati costretti di volta in volta ad aggiornare le nostre politiche di sicurezza. Per la facilità di utilizzo, con Checkpoint abbiamo una Smart One 5050 alla quale sono collegati due cluster, uno per quanto riguarda navigazione web e accesso ai servizi da parte dei dipendenti regionali e l'altro invece è un cluster che si occupa esclusivamente della parte sanità e dei servizi esposti verso le ASL e gli ospedali. La Smart Event è una blade per noi fondamentale in quanto raccoglie tutti i log di accesso e soprattutto in un servizio come la pubblica amministrazione avere sempre la lettura dei log precisi è fondamentale. Grazie all'intuition prevention di Checkpoint siamo riusciti ad intercettare parecchi attacchi inoltre abbiamo avuto un tentativo di phishing da parte di un servizio esterno e Checkpoint è riuscito a bloccare il dominio, a intercettarlo e quindi comunque si è a tenerlo lontano dalla maggior parte dei clienti. Grazie a Checkpoint e logicamente grazie anche al fatto che riusciamo a gestire tutto da un unico punto di accesso e con il passaggio a 80-20 per cui avendo l'opportunità di essere all'interno della management con più persone contemporaneamente, i tempi di gestione, di creazione policy o di lettura dei log si è naturalmente al passato rispetto a prima. A chiunque vuoi avere un prodotto di alta affidabilità, di sicurezza e di scalabilità senza perdere niente e anzi guadagnando in tutto. Grazie a tutti!